Un modo alternativo per esprimere i propri sentimenti, ecco forse questo è l'essenza dell'arte. Il tappaggio secondo me a oggi è arte, semplicemente cambiata la tela. Mi ricordo ancora quel giorno quando è arrivata a casa e ha deciso che il suo lavoro sarebbe stato con il tatuatore. Anni fa il tatuaggio era un ambiente molto di nicchia, molto chiuso, quindi non era facile entrare o avere una persona disposta a insegnarmi. Eravamo molto perplessi perché all'epoca, si parla di bene undici anni fa, comunque come lavoro non era visto come può essere visto adesso. Silvano non tatua e basta, Silvano racconta storie attraverso i suoi tatuaggi. Mette sempre un pezzo di se stesso in ogni suo tatuaggio, è questo che lo rende diverso dagli altri. So che è impossibile riuscire a rappresentare la realtà in un quadro, in un dipinto, in un disegno, però si può avvicinare molto. Ed è quello che io provo a fare, mi stimo. Silvano viene visto dagli amanti dei tatuaggi di oggi per quello che realmente è uno dei migliori al mondo. Le soddisfazioni più grandi lavorative è avere gente che mi aspetta due anni e che arriva da qualsiasi parte del mondo. Voglio stupirli, loro hanno tantissima aspettativa da me. Quando riesco a emozionare un cliente, per me è la soddisfazione più grande in assoluto. È meraviglioso. Lo staff attuale, per me, è come una famiglia. Credo che Silvano abbia fatto un'ottima scelta anche proprio sulle persone, oltre che sul talento che ognuno di noi ha. Il progetto più grosso che ho al momento è creare una squadra talmente forte che spacca il culo a tutti quanti. Che non si può dire e quindi... Che non si può dire e quindi... Grazie.